Prospettive dell'innovazione digitale L'innovazione digitale rappresenta infatti la sfida attuale per le imprese e le istituzioni pubbliche che sono chiamate ad adeguare strategie, meccanismi decisionali e strumenti con i quali interagiscono tra loro e con i cittadini in un'ottica di maggiore efficienza e semplificazione. L'Italia è ben posizionata nel contesto dell'agenda digitale europea. L'Italia ha una posizione già di eccellenza. Con l'implementazione delle nuove direttive che il governo e l'agenzia digitale stanno implementando e che presenteranno anche a breve con il progetto Italia Login, sicuramente ci presenteremo come leader a livello europeo e non solo su tutte le tematiche di innovazione digitale dell'ultima frontiera. Anche la Valle d'Aosta sta facendo efficacemente la propria parte. Sarà per esempio una fra le prime regioni in Europa a creare le condizioni per avere un territorio con connessioni a banda ultralarga. E vi sono aspetti anche d'avanguardia per una pubblica amministrazione. Per esempio è in corso la costituzione di un data center unico regionale che permetterà di dare attuazione a quelli che sono i nuovi paradigmi, cioè il paradigma del cloud, con l'abbandono progressivo di tutte quelle applicazioni verticali, peraltro molto utili, che però oggi hanno un limite della poca interoperabilità tra gli stessi. Deve quindi essere chiaro che la competitività di un paese è condizionata dal suo livello di digitalizzazione affinché la sua azione sia efficace sia nel sostegno allo sviluppo sia nella lotta all'evasione. Ma la digitalizzazione è anche strategica nell'erogazione di servizi sempre più accessibili, efficaci ed efficienti.